Le cessioni stanno caratterizzando la prima parte del mercato del Pescara e non è una sorpresa, visto che lo snellimento della rosa era la richiesta più incisiva fatta da Zeman. Gli addi di Pigliaceli e Gantz sono cosa fatta, come cosa fatta è la rescissione del contratto col portiere Vittorio Antonino, ufficializzata stamani. Le prossime ore saranno decisive per la partenza di Antonio Mazzotta. Il terzino sinistro va via, perché il Pescara non gli rinnova il contratto in scadenza. Il Brescia aveva superato la concorrenza dell'Ascoli, ma negli ultimi giorni l'inserimento del Parma ha rimescolato le carte e il club Ducale ora è avanti rispetto a quello di Cellino. La partita non è ancora chiusa del tutto, il Brescia proverà ancora, ma Parma sembra la destinazione più allettante, essendo la squadra di D'Aversa anche in lotta per la Serie A. Sempre il Parma ha poi messo gli occhi su Ahmad Ben Ali, il giocatore anglo-libico da giorni fa gola anche al Crotone. Con un'offerta non inferiore a 2 milioni e mezzo di euro, Ben Ali può partire o al massimo con un prestito ma con diritto o obbligo di riscatto. Il presidente Sebastiani è stato chiaro e un giocatore come Ben Ali, se andrà via, accadrà solo di fronte ad un'offerta economica importante e congrua per il valore del giocatore. Attraverso le dinamiche di entrate e uscite del settore sarà possibile capire il destino di Nando del Sole. Se dovesse esserci abbondanza e gli spazi dovessero chiudersi, la Juventus potrebbe riportare a casa il gioiellino napoletano e poi valutare la soluzione idonea nei prossimi mesi. Un reparto che a breve potrebbe avere un nuovo occupante. Carlos Embalo del Palermo, la società siciliana, prima di darlo via in prestito, sta trovando dei sostituti ed una volta chiuso l'acquisto di Moreo dal Venezia, lascerà andare il giocatore della Guinea-Bissau. Intanto è praticamente fatta per il difensore Andrew Gravion che l'Inter ha fatto ritornare dal Benevento per poi girarlo al Pescara. Il giocatore Franco Guadalupense ora è in vacanza, in concomitanza con la sosta della Serie A. Potrà essere a disposizione di Zeman la prossima settimana. Arrivano conferme anche dall'intervista rilasciata dall'agente di Gravion, Oscar Damiani, al portale FC Inter News. Le voci che vogliono il Pescara sulle tracce di Gravion sono vere. È una trattativa che si può concretizzare. C'è un accordo di massima tra le parti che deve essere formalizzato nei prossimi giorni. Vedremo cosa succederà. Intanto la visita al Lugano del presidente Sebastiani e l'incontro col patron Angelo Renzetti è stata propedeutica all'ufficializzazione dell'amichevole di mercoledì prossimo, ore 15, tra Pescara e Lugano, all'Adriatico Cornacchia. Sarà l'occasione per Zeman di fare le prove generali in vista della parte.